Benvenuti al Wikileaks Podcast, le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata Luca e il team di Lixi Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza. Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Lixi Invest e da eventuali ospiti, con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Lixi Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso completo visita il nostro sito www.lixiinvest.com e il nostro gruppo www.wikilixi.com Benvenuti all'ottava puntata del Wikilixi Podcast, intercettazioni su finanza e investimenti. Io sono Luca Lixi e con noi oggi... C'è Lorenzo Brigatti, Project Manager di Lixi Strategy. Buongiorno a tutti. Ciao Lore, buongiorno. Io ogni volta non mi presento mai. C'è questo momento di panico in cui non sappiamo come presentarci. Non so se sia... Ormai non può dire che ti conoscono. Ma guarda, le persone che contano si presentano senza titolo. Chi sono? Luca Lixi. Oh, sono Brigatti, sono te. Auto... E poi non conto un cazzo, però comunque mi presento solo con nome e cognome. Chi vuole conosce, chi mi conosce. Poi in realtà dai, scherziamo perché nella descrizione nel podcast ci sono tutti i nostri link. Siamo la community più grande di finanza e investimenti in Italia. Puoi andare a trovarla su Facebook. Si chiama Wikileaks, i propri. Puoi andare sul nostro sito www.lixinvest.com, farti un'idea e capire anche un po' chi ti sta parlando. Dall'altra parte è il microfono. Microfono che peraltro ora è stato decisamente migliorato. Aspetta, fateci sapere se vi piace perché è stata una faticaccia a montarlo. Lo raccontiamo. Raccontiamo quello che possiamo raccontare. Non nei dettagli perché dovete sapere che io ho dei problemi con la tecnologia. Uno vede che scrivo su Facebook, vede che abbiamo il blog, eccetera. Dovete sapere che io non faccio niente di tutto questo e odio anche solamente attaccare un microfono e queste cose qua. Quindi che è successo? Che ho chiesto un po' indicazioni a tutti i nostri responsabili interni aziendali su che microfono mi convenisse comprare e così via. E mi hanno fatto comprare sto microfono che poi praticamente con una scheda audio attaccata, una roba potentissima che poi ho scoperto essere adatto per registrare concerti musicali, gente che suona con la chitarra. Anche meno. Un singolo. Anche meno ragazzi, anche meno. Però datemi conferma che l'audio è pulito, è fantastico. La mia orrenda voce la sentite almeno bene. E viene entro nelle orecchie, insomma. Oppure fatemi sapere se la mia voce si sente bene lo stesso, che è un microfono plug and play, lo metto dentro ed è già pronto, così vediamo se Luca si può arrabbiare ancora oppure se... Ah, che magari funziona anche meglio il tuo. Sarebbe così. No, no, no. Brigati si sente meglio. Ogni volta devo andare in giro con questa roba. Cavi contro cavi. Dai, dai. Di che parliamo oggi, Lore? Allora, cosa abbiamo deciso? Il titolo qua, perché ci mette a disagio parlare di soldi. Quindi un topic interessante. Un topic psicologico del solito. Finalmente ero partito come esperto di finanza comportamentale, torniamo un po' a parlare di soldi e psicologia e andremo un po' a vedere in questo podcast perché i soldi che sono una risorsa come tante altre, in realtà non sono così facili da gestire dal punto di vista emozionale oppure da un punto di vista semplicemente pratico. È molto difficile parlare di soldi in un certo modo. Lo approfondiremo bene. Non so se magari tu Luca al riguardo volevi dire qualcosa giusto per cominciare. Nel frattempo quando dice esperto di finanza comportamentale io mi aspetto sempre che qualcuno venga fuori. Ma Brigati, ma lei è uno psicologo? Diciamo su cosa hai fatto la tesi però. Diciamo su cosa hai fatto la tesi. Ho fatto la tesi su un test psicologico che si chiama MBTI e la sua applicazione per capire quanto fosse in grado di predire alcuni tratti dei lavoratori in alcune nazioni europee. Quindi sono andato a prendere tutti i dati psicologici di questo test in Francia, Belgio, eccetera, li ho messi un po' insieme e sono arrivato a delle conclusioni. Ha parecita un'esperienza molto interessante che mi ha fatto un po' vedere come economia e psicologia potessero connettersi e creare un sacco di cose. Ancora all'epoca non conoscevo così bene il mondo degli investimenti, stiamo parlando di un sacco di tempo fa, però è stata, diciamo così, la prima intuizione che poi mi ha portato in questo mondo. Quindi non sono psicologo ma quasi. Perfetto, quindi attaccate meglio la terza media, però Brigatti non si tocca, mi raccomando. Brigatti è qualificato per parlare di psicologia del denaro. Come psicologia del denaro? È una parola che ho, cioè è un termine, è un modo di dire che assolutamente odiai. Vediamo un po' nel podcast. Allora, i soldi sono un tabù. I soldi sono un tabù. Chi lo dice? Guardatevi un po' attorno, ok? Quando si va a parlare di denaro, e per denaro intendo non delle manifestazioni di avere denaro, perché è una cosa di cui parleremo, ma proprio del denaro. Cioè, avete mai sentito una persona che si va a vantare di quanto denaro liquido ha? È una cosa reputata assolutamente sconveniente. Ci sono una marea di motivi per questo. E in ogni caso ci mette comunque un po' a disagio parlare proprio di soldi, parlare di denaro, non delle manifestazioni di avere tanti soldi e avere tanto denaro. Che motivi abbiamo individuato allora per questo tipo di disagio a parlare di soldi? Ce ne sono due, diciamo. Uno è un po' il contenitore dell'altro, però possono anche gire in maniera separata. I motivi sono socioculturali e psicologici. Il motivo socioculturale, quindi sono un po' le varie opinioni che le persone hanno intorno a noi, che la società... Tu che sei psicologo parli di quello psicologico. Su quello sociologico è una cosa che scrivo tanto, no? Poi adesso ti do la parola, perché sei più qualificato su quello psicologico sicuramente. Su quello sociologico l'ho scritto anche l'altro giorno sul nostro gruppo Facebook tendenzialmente. No, sociologico è culturale. Noi viviamo in Europa tendenzialmente, tu in Polonia, io a Malta, ma gran parte di quelli che ci ascoltano risiedono in Italia. Ma l'Europa non cambia tanto, a meno che non stiamo parlando di paesi più anglosassini come UK. E cose così, però l'Europa da questo punto di vista ha radici culturali assolutamente comuni. Qual è quindi questo aspetto sociale, sociologico, che ci fa un attimino non essere appunto a proprio agio quando si parla del denaro? A mio avviso sono due questi motivi, abbiamo detto sociologico, però che si dipane in due cose. Il primo è la radice cattolica. La radice cattolica, qui voglio dire, attenzione, in senso negativo. In senso negativo perché l'insegnamento della religione cattolica viene costantemente snaturato quando si parla del denaro. Nel webinar ho fatto un esempio, ad esempio su questo. C'è un passo di Tommaso, se non erro, ok, che viene costantemente interpretato come i soldi sono la radice di tutti i mali. Non c'è scritto questo. Cioè, nessuno ha mai detto, di grandi interpreti della religione cattolica, che i soldi sono la radice di tutti i mali. C'è scritto esattamente in quel passo che l'amore, quindi la bramosia, la cupidigia verso l'arricchimento fine a se stesso, ok, è la radice di tutti i mali. Sono due cose, se mi seguite, completamente differenti. Quindi, un primo motivo per questo disagio a parlare di denaro è una radice cattolica, ma distorta, distorta e snaturata. Perché leggendo i testi sa che non c'è scritto niente di tutto questo e vanno anche un po' interpretati. Il punto è che sono stati interpretati nella nazione, ovvero l'Italia, che ha avuto il partito comunista più influente dell'Occidente. Perché questa è un'altra realtà storica, no? Tessi in Polonia, quindi... Qui è stato un pochino più forte, diciamo, il partito comunista. Esatto, però decisamente sì, decisamente sì, però noi siamo in Occidente, cioè l'Italia faceva parte dell'altro blocco e pur facendo parte dell'altro blocco il partito comunista, sappiamo, era il più influente di tutto l'Occidente. Anche questo assolutamente ha avuto influenze pesanti da un punto di vista culturale. Cosa ne pensi, Lore, te? Assolutamente sì. Per quanto riguarda, diciamo, l'interpretazione della religione cattolica o delle religioni più in generale, senza fare un discorso magari troppo teologico, perché abbiamo un po' di... Ci mancherebbe altro, no? Di religione magari non siamo così ferrati. Esistono religioni che a livello culturale, o da un punto di vista più pratico, se vogliamo definirlo così, sono più amiche di quella che riguarda l'imprenditoria o il concetto di guadagnare denaro. Ad esempio, se prendiamo la religione protestante, che è stata quella che è un po' definita sia in terra che Stati Uniti, il far bene nella vita, che in questo caso si traduceva nel conquistare una posizione di successo, piuttosto che portare a casa dei guadagni, essere una persona imprenditoriale, darsi da fare per migliorare se stesso e gli altri, era una sorta di dimostrazione di amore di Dio, o comunque di approvazione, senza andare troppo. Mentre invece nella cultura cattolica c'era sempre un po', rimane ancora un po' l'esaltazione degli ultimi, un giorno gli ultimi saranno i primi, poi ovviamente ci sono mille interpretazioni, ci sono ad esempio... Un'uguaglianza forzata, anche un senso di uguaglianza decisamente forzato. Tutto questo ragionamento ovviamente non è una correlazione uno a uno, perché poi ci sono altri fattori che si vanno a combinare con la religione, quindi non è una correlazione così diretta. Ad esempio, una delle regioni più ricche della Germania è la Baviera, che è una delle più cattoliche, ma aiuta comunque a fornire una chiave di lettura della realtà che ci può far capire come mai a livello di società ci siano società che sono più amiche o più favorevoli all'imprenditoria, o in generale all'inseguimento di un certo tipo di benessere che si manifesta anche con un conto in banca maggiore, e altre che invece preferiscano tirare un po' il freno a mano. Certo. Attenzione, non stiamo dicendo che ci sia... ma anche perché questi sono insegnamenti malinterpretati e sforzati, il concetto è questo, non è che stiamo dicendo che nella Bibbia ci sono scritte particolari cose anticapitalistiche, perché non è assolutamente così. Sono cose che vengono... C'era pure la parabola dei talenti anche nella Bibbia, che è al di là di ogni interpretazione, fazioso o quant'altro. Per chi non se la ricorda, c'era un padrone che aveva dato a dei servi dieci talenti, cinque talenti, un talento, gli aveva detto fate quello che volete con questi soldi. I primi due li avevano investiti, in qualche modo che adesso non ricordo, comunque erano riusciti a portarne a casa di più, ed avevano preso la lode del padrone, mentre invece il terzo l'aveva nascosto e seppellito sottoterra e poi gliel'aveva riportato. E per questo era stato non punito, ma comunque era stato rimproverato dal padrone. Magari una cosa più metaforica, che non riguarda i soldi, ma riguarda più i talenti che noi abbiamo e il metterci, diciamo così, il dare quello che abbiamo per migliorare il mondo in cui viviamo. Ma comunque è un chiaro esempio di come l'investimento, anche nella Bibbia e nella religione cattolica, non viene assolutamente condannato. Anzi, sì. Ma uscendo anche puramente da un discorso di interpretazione delle scritture, anche perché è un discorso estremamente difficile, estremamente complesso. Parliamo anche da un punto di vista pratico, tendenzialmente. Uno degli insegnamenti di qualunque regione è quello della carità, che nel mondo reale, nel mondo materiale, si potrebbe leggere anche come un discorso di beneficenza. Ora, capisco che non si viene valutati di fronte a Dio in base a quanto si ha e quanto si dona, però, attenzione, viviamo in questo mondo, è una persona che dona un miliardo, ok, per cause caritatevoli, è decisamente più influente di una persona che col suo buon cuore, per carità e niente a dire, dona 100 euro. Cioè, attenzione, con un miliardo fai una marea di cose in più rispetto a quello che puoi fare con 100 euro e su questo non ci piove. Assolutamente sì, però proprio con quel discorso che stavamo facendo prima, un po' del disagio di questa relazione ambivalente di odio e amore che abbiamo con i soldi, mi è capitato più di una volta di leggere commenti, anche su gruppi di persone che magari non erano esattamente l'italiano medio, però erano gruppi di crescita personale o altri tipi di gruppi in cui condannavano un po' chi preferiva fare beneficenza solo con il denaro anziché metterci del tempo, perché veniva valutato il tempo come un parametro più importante nel valutare quanto tu come persona ci tenessi affinché questa causa avesse successo, la causa per cui si prestavano soldi. Ma l'abbiamo vista anche da noi, no? L'abbiamo vista, ci sono cose che io so che mi piacerebbe vedere nel mondo, ma non sono la persona più adatta per portarle, quindi preferisco supportarle con risorse, in questo caso soldi, e poi lasciare che sia chi è più bravo di me ad occuparsi di questo. Non ci vedo nulla di male, anzi mi sembra una di quelle situazioni che rende contenti tutti. È la diversificazione dei ruoli che esiste a secoli e ci mancherebbe altro. Sì, la specializzazione della società. È la specializzazione, esatto, più che diversificazione, esatto. Ma questo l'abbiamo visto anche quando abbiamo fatto la nostra raccolta di fondi per Basketball for Africa e Sports Around the World. Alcuni comunque, eh no, ma qui, ma lì, ma prima gli italiani, c'è anche altra gente che soffa. Ho capito, però c'è anche quel discorso là. Pensa quanto siamo comunque completamente distorti da un punto di vista economico. Ecco, se si attacca, si va ad attaccare anche chi fa della beneficenza, perché questo è che costantemente accade. Insomma, noi che siamo dei grandi filantropi, facciamo il nostro, per carità, neanche si dovrebbe dire. Ma noi lo diciamo per raccogliere più fondi, semplicemente questo è il concetto. Però anche lì c'è gente che va a criticare. Quando invece magari se una persona invista e fa della beneficenza, in realtà ispira altre persone che non avrebbero mai pensato a fare beneficenza. Oppure, no, aspetta, guarda, l'altra idiozia, questa mi fa ancora più incazzare, sinceramente, è quando dicono, ehi, chissà, con tutte le tasse che ha evaso, si vuole ripulire la coscienza. Non a me, cazzo, voi lo dicono a Warren Buffett, a Bill Gates, eccetera. Con tutte le tasse che ha evaso, dovrebbe dargli allo Stato quei soldi. No, ma io, adesso mi arrabbio, poi si sente male col microfono. Questa è un'altra fesseria ignobile, è una fesseria ignobile. Cioè, in che modo, tendenzialmente, dare questi soldi a un intermediario, che sarebbe lo Stato, che poi dovrebbe darli ai poveri o fare chissà quale iniziativa, è più efficiente che gestirli personalmente. Con quell'idea, ovviamente, è tutto registrato, tutto documentato, sinceramente. Assolutamente. Ma, aiuto, provate già. Un po' il senso di benaltrismo. Sì, ma perché vuoi costruire i campi da basket in Africa? Ah, esatto. Stole che muoiono di fame. Se uno scegliesse un problema che gli sta veramente a cuore e si occupasse di quello, anche se non è il problema più importante del mondo, sono sicuro che il mondo sarebbe un posto molto migliore. perché anche i problemi più grossi, piano piano, comincerebbero ad essere gestiti dalla responsabilità individuale. Ma io penso che non stiamo andando fuori terra, perché siamo proprio, cioè, siamo all'interno del problema che... No, 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 adesso ti spiego, ti racconto un po' qual è la connessione che do a questo che stiamo dicendo. È proprio legato al possesso o meno di una mentalità capitalistica, cosa che in Europa e in Italia scarseggia. Allora, queste polemiche, negli Stati Uniti stanno un po' montando, no? Anche, diciamo, viste le prossime elezioni, eccetera. Però, siamo comunque su due pianeti completamente diversi. In America, però, tendenzialmente non c'è assolutamente il disprezzo, la paura, l'odio per il ricco che c'è in Europa. Questo è poco ma sicuro. E tra l'altro, anche perché chi diventa poi immensamente ricco, ma anche chi comunque semplicemente ha successo, ha molto questa idea del give back. Ok, quindi rendere un po', ok, di ciò che ha avuto in termini anche di casualità positiva, in termini di ciò che è riuscito, l'opportunità che ha avuto con lui. Quindi il give back è molto, molto, molto importante, molto, molto, molto usato. In Italia e in Europa, dove comunque c'è questa mentalità capitalista molto meno sviluppata, tendiamo sempre a pensare che, non so, una persona che fa del bene, che fa beneficenza, ci sia qualcosa sotto. Chissà cosa c'è sotto. E questa, per me, è pura follia, da un certo punto di vista. È pura follia. Era bella una frase di Montanelli, così chiudiamo questo discorso qua. Montanelli, l'ho letta da poco, quando un italiano vede passare una macchina di lusso, il suo primo stimolo non è averne una anche lui, ma tagliargli le gomme. Ok, questo rende molto bene il video. L'invidia sociale è un po' un problema, quella che puoi vedere anche andando sui social media, quando succedono i vari scandali, che ne so, l'acqua a 8 euro della Ferragni, piuttosto che... Certo, ma vedi perché sono legate. Un sacco di persone che si indignano, ma chi si indignano a 8 euro. Ora ti dico, quindi, perché siamo a disagio a parlare di soldi? Perché intimamente, per questi motivi socioculturali che abbiamo un po' raccontato, li reputiamo una cosa sporca. Non direttamente, però è così. È assolutamente così, li reputiamo comunque una cosa sporca. Una cosa sporca è una cosa che chi ce li ha, chissà che manfrine avrà fatto, chissà chi avrà truffato, e cose così. E quindi, perdono, ci sentiamo a disagio, anche per paura magari di essere giudicati come persone, cazzo, estremamente, esageratamente ambiziose. Stiamo già spostando un po' allo psicologico, quindi. Parliamo di questo, allora. Parola al nostro psicologo. No, scherzo. L'ordine degli psicologi, poi. No, no, esatto. Arrivano le case. Esperto di finanza comportamentale, no, perché va detto che neanche Richard Taylor, il premio Nobel dei miei cittadini, è uno psicologo, è un economista con studi importanti in ambito finanza comportamentale. Kahneman sì, Kahneman è uno psicologo, assolutamente. E ha vinto il Nobel per l'economia, incredibile. È il Nobel per l'economia, esatto, esatto. È una dimostrazione come queste due discipline un po' si tocchino l'una con l'altra, perché l'economia altra non è che una scienza sociale. Lo studio, l'economia comportamentale, anzi meglio, è lo studio di come le persone si comportano con il denaro, come reagiscono ed è per questo che dal punto di vista psicologico a me è sempre interessato parecchio un po' capire da dove arrivasse questo disagio. Perché se voi ad esempio pensate quali sono gli stipendi non dei vostri colleghi, quali magari li sapete, non sono necessariamente trasparenti perché moltissime aziende non li rivelano, però magari ci sono delle bande, magari parlando a pranzo si sa, ma molto probabilmente scommetto che voi non conoscete minimamente qual è lo stipendio di vostro cognato, qual è lo stipendio dei vostri amici più cari. E se provate a fare questo tipo di domande si ottiene questo tipo di reazione un po' scomposta, ma come mai vuoi farti i fatti miei, ma come mai questa domanda? Fatti gli affari tuoi, l'ho capito, certo, giusto. Infatti io non ti ho mai chiesto quanto guadagni, ad esempio. Fatti gli affari tuoi, ma è due spicci, tutto il resto. Io non guadagno niente, è l'azienda che guadagna. Esatto. E quindi una delle ragioni è un po' una, diciamo così, interiorizziamo quelli che sono i problemi o le, più che i problemi, le credenze a livello sociale. Quindi sia questa radice cattolica snaturata, che un po' anche un, diciamo così, in certi paesi o in certe situazioni particolari, una cultura comunista o comunque di disprezzo del capitale, dell'accumulo di soldi. Esatto. Anticapitalista, diciamo. Anticapitalista, esatto. Questi due fattori insieme in qualche modo influenzano anche l'individuo nelle sue scelte individuali. Ma in pratica, a livello psicologico, c'è un lato molto più intimo e personale, che solitamente parte un po' dalla famiglia. Come siamo cresciuti e quello che vediamo dai nostri genitori, come parlano di soldi, molto spesso è quello che ci portiamo anche in età adulta come misura di quello che significa parlare di soldi. E questo discorso crea dei problemi, solitamente l'educazione finanziaria non è insegnata a scuola, quando viene insegnata a scuola viene insegnata in un modo pessimo, quindi c'è il rischio che quello che impariamo dai nostri genitori ce lo portiamo avanti per tutta la vita se non diventiamo consapevoli di quello che stiamo imparando e se è qualcosa di giusto o meno. In questo caso c'è anche un discorso di questo genere. Qualche volta gli insegnamenti dei genitori generano anche un rigetto, ovvero si tende a fare l'esatto contrario. Quindi una famiglia con un genitore troppo troppo con questi pensieri di disprezzo per il danno, magari perché non ce li hanno semplicemente o altri motivi, potrebbe far nascere nel giovane una mentalità contraria, esattamente opposta come sfida a questi insegnamenti che lui poi quando è diventato adulto ha reputato non corretti. Però è sicuramente influenza quel tipo di formazione. C'è un'influenza fortissima e poi si reagisce o copiandola o andando esageratamente all'opposto. Perfetto. Solitamente sono due strade sbagliate, perché la verità sta sempre un po' nel mezzo, non per fare il democristiano, ma ci sono sempre dei buoni aspetti che possono essere assimilati da quella che è la famiglia che ci è cresciuta e da altri invece che devono essere integrati, perché per mille ragioni non erano presenti. Quindi quando si parla dal punto di vista psicologico la prima cosa da fare è capire un po' quale sia la propria attitudine e capire un po' quanto la propria famiglia è stata un po' un'influenza. Per esempio nel mio caso personale i miei mi hanno insegnato il valore del risparmio e questa è una cosa importante che mi sono sempre portato dentro. E confermo che Brigati è un gran risparmiatore, sicuramente più di me anche, quindi se un risparmio facciamo dire a Lorenzo che è veramente un grande risparmiatore. Al tempo stesso però i miei genitori sono stati entrambi impiegati e quindi a loro mancava quello che era un po' il concetto di imprenditoria. Non è che non lo conoscessero, ma semplicemente lavorandone impiegati non avevano la mentalità che i soldi arrivano dal profitto, dalle aziende. Quindi il fatto che diventare un imprenditore è uno dei modi più rischiosi da un certo punto di vista, ma dagli altri migliore quando si tratta di costruire un capitale. E questo è un tipo di conoscenze che ho dovuto acquisire strada facendo. Quindi è molto importante dal punto di vista psicologico avere un po' sapere dove si è per poi decidere dove si vuole andare. Quindi imparare ad acquisire quelle conoscenze che ancora ci mancano. Quindi il passaggio che stiamo facendo adesso però è da un... perché i nostri genitori stessi fanno parte della società, no? Quindi stiamo facendo un passaggio dalle motivazioni sociologiche che abbiamo raccontato prima, motivazioni sociologiche che hanno influenzato i genitori, genitori che hanno influenzato poi e potrebbero aver influenzato il giovane. Esatto, magari ci sono delle esperienze personali più forti che contraddistinguono un po' il rapporto con il denaro, lo definiscono e poi vengono un po' tramandate di generazione in generazione. E creano poi in generale quel senso di privacy e di protezione, quel non voler rispondere alle domande sui soldi in termini puri. Perché è giusto per fare un esempio. Avere tanti soldi, perlomeno qui in Polonia, durante l'epoca comunista, voleva dire ad esempio collaborare con il partito, avere una sorta di connessioni o di affari che non erano proprio i più puliti. E quindi si preferiva mantenere questo tipo di discorsi un po' nascosti. Però attenzione, quando io penso alle motivazioni psicologiche, in questo caso più che altro penso a delle motivazioni innate, che appunto sono delle motivazioni ancestrali che non sono state, cioè non hanno fatto in tempo ancora a essere influenzate ovviamente dalla sociologia e dall'evoluzione. Quando io penso a un senso di protezione, di privacy, di paura della perita della propria proprietà privata, e questa è una motivazione ancestrale che abbiamo da quando cazzo bambini. La paura di perdita la caverna o il territorio. Esatto, esatto, perché sono due motivazioni diverse. Quando i bambini cazzo ci vogliono, se stiamo giocando, ci vogliono fregare il giochino, cazzo ci cazziamo. Perché tendenzialmente quella non è un'influenza sociologica, secondo me è proprio come funzioniamo. Come funzioniamo, perché c'è il possesso, la paura di perdere ciò che abbiamo, e il desiderio di proteggerlo è assolutamente inovale. La paura di perdere un posto sicuro e quelli che sono i nostri averi è ancestrale. Però il fatto che questo si traduca in un rifiuto di parlare del denaro ha più questo componente un po' macro sociologica che è entrata nella nostra testa. Perché abbiamo fatto un'equazione a livello inconscio per cui il denaro ci permette di avere un tetto sotto cui dormire, ci permette di avere un certo tipo di stile di vita, eccetera. Psicologicamente, secondo me, c'è un altro aspetto che è molto più interessante da un certo punto di vista. È più legato alle abitudini di acquisto, le abitudini di consumo o le abitudini di vita. Ed è questo, perché, come ho detto all'inizio del podcast, siamo un po' a disagio a manifestare esplicitamente la nostra ricchezza. Ho 5 milioni sul conto corrente, è difficile che qualcuno te lo vada a dire, quantomeno in ambiente europeo, perché negli Stati Uniti sono un po' più aperti a parlare di questo. Qui da noi è una roba reputata assolutamente rozza, volgare e sconveniente. Però la gente è molto meno a disagio, ovviamente, a manifestare la ricchezza. Ok, cioè, parlare a cena del fatto che hai seconda casa a Courmayeur, terza casa in Costa Azzurra, questo lo puoi assolutamente dire. E se ce li hai, è implicito, ok, che li hai pagate, tendenzialmente perché non hai fatto un'occupazione forzata, e quindi è implicito che hai questo denaro. E questo è un po' il driver psicologico che muove tutta l'industria del lusso. Visto che parlare della moneta, del denaro, del soldo in sé, in caso di questo disagio qua, le persone sono molto più a proprio agio a manifestare quanto denaro hanno attraverso degli acquisti, tendenzialmente, che hanno la funzione di dare una certa impressione di se stesso, al proprio gruppo di pari e non necessariamente a tutta l'umanità. Però, ripeto, perché si compra il lusso? Il motivo è questo. Per impressionare, ma non per ostentare necessariamente, però per dare dimostrazione che te lo puoi permettere, anche da un certo punto di vista. Assolutamente sì. Questo è ancora un retaggio, forse a certi livelli, alcuna culturale, per quanto riguarda un po' l'antica nobiltà, che loro si svegliavano, andavano a caccia, facevano party e feste tutto il giorno, e per loro lavorare era un'attività da poveri, perché avevano dei patrimoni così grossi che potevano permettersi di vivere di rendita a vita. Quindi, questo concetto di ostento, ma è un qualcosa che comunque ho già e non ho bisogno di lavorare, è un po' rimasto come socialmente accettabile, specialmente tra quelle che sono le classi un po' più alte. Anche se, di contro, c'è anche l'altro lato della foto di Bill Gates, che va a prendersi il kebab e viene ammirato un po' da tutti, perché è in attesa per un kebab, che è un cibo umile, lui è vestito un po' così. E quindi c'è anche un po' questo lato, sta capitando molto adesso con i vari fondatori di aziende tech, Zuckerberg, Facebook, lo stesso Musk, non è esattamente uno che si vesta sempre con Armani, l'abito su misura, eccetera, però hanno un po' sdoganato questo modo di vestirsi tranquillo, ma se ci pensiamo bene, in realtà loro hanno altri modi per impressionare la gente. Ehi, capisci, esatto, è proprio questo il concetto. Warren Buffett, sto leggendo adesso la sua biografia, Snowball, è bellissima e ve la consiglio. Sì, ottimo. Una delle cose che dice durante tutto il libro era che lui aveva un senso dello stile pessimo, nonostante avesse anche poi avuto amicizie importanti a Washington, persone che incontravano senatori o persone che avevano un certo senso dello stile, non è mai riuscito ad acquisire questo senso dello stile e quindi sembrava che fosse un po' vestito da povero, ma in realtà lui aveva un jet privato, se l'ha acquistato dopo, leggermente, a un certo punto della sua carriera se l'ha acquistato. Sì, poi l'azienda si è comprato dopo. Esatto. Quello è stato il passo addirittura successivo. Esatto. È partito con il jet intero, poi si è comprato i pezzettini di jet e poi ha detto, ah che bell'idea di business, ha comprato pure l'azienda. Fai vedere questa borsa, quanto è che costa l'azienda che la produce? Ok. La compriamo. Eh no, perché esatto, è ovvio che un mega miliardario non impressiona il suo gruppo di pari, oppure anche l'opinione pubblica comprandosi il 2000 benzina per andare a sgommare lì, come farebbe il... Mi sembra normale. Lo vedo, Bill Gates che arriva col macchinone. Eh sì, Elon Musk lì, con la macchina lì. E dai, Elon Musk non arriva col macchinone lui. Col 2000 benzina, no, lui con la Uno Turbo, con il 2000 benzina. Il pandino, il pandino. Per impressionare i vecchi amici del liceo. È ovvio che hanno altri modi di manifestare la propria ricchezza. Quel caso che fa molta rima col proprio successo, col buon esito delle attività imprenditoriali che hanno lanciato. Anche perché per loro veramente il concetto di ricchezza è relativo, ormai è un numero così buttato lì. Cioè, non interessa più agli altri. Loro hanno una parte enorme del loro patrimonio nelle loro aziende. Warren Buffett, il suo stipendio, è 100 mila dollari all'anno. Poi chiaro che comunque muove miliardi attraverso la sua azienda, ma in realtà e possiede azioni della Berkshire Hathaway. Se un giorno dovesse fallire, gran parte del suo capitale scenderebbe e andrebbe e diminuirebbe di parecchio. Ha fatto clamore anche il caso di Elon Musk, che abbiamo raccontato la volta scorsa, che è sotto processo per il Twitter, il tizio che aveva salvato, quello della grotta, no? Adesso ascoltatevi il podcast di Tesla su Tesla che abbiamo fatto e dicevo ragazzi, io non c'è un soldo praticamente, non ho liquidità e tutta la ricchezza che vedete sul Bloomberg Billionaire Index sono le quote di partecipazione che ho nelle mie aziende, ma ci metto un attimo a venderle per carità, però materialmente ok, la mia ricchezza è pari a queste quote di partecipazione qua. Cosa vogliamo dire su questo anche allora? Perché tutto questo disagio di pari di denaro nasce effettivamente a mio avviso quando non si capisce qual è l'origine vera della ricchezza, quella buona, quella pulita, attenzione, in alcun modo un buon capitalista con video possiamo essere te, io, te un po' meno, te e allora abbiamo giustamente è più moderato per carità, il mondo è bello perché è vario, però anche te sei capitalista comunque ovviamente. Oppure Warren Buffett ha dichiarato di votare democratico. No, per carità, non è un discorso politico, però dai, è un altro discorso ancora, però questo disagio a pari di denaro secondo me nasce quando non si capisce bene quello della ricchezza e ripeto, da capitalista convinto io sono contro assolutamente chi accumula ricchezze con la frode, con la truffa, ma è anche quello che facciamo sul nostro gruppo ogni giorno, non la truffa, ma la prevenzione della truffa. Cosa sta dicendo? La prevenzione della truffa, la prevenzione della truffa, la prevenzione, io proprio ho spregio totale per chi truffa sinceramente, perché non... È un'attività criminale? È un modo di fare denaro assolutamente sporco, assolutamente... stai falsando il mercato, la realtà è quella, stai falsando il mercato, io da difensore estremo al mercato mi fai schifo, cazzo, fatti i tuoi suoi di vattene la cazzo di viena, però io parlerò sempre male di chi accumula ricchezza in un modo assolutamente non pulito. Per contro, sono assolutamente attratto e affascinato da chi accumula, crea ricchezza in modo pulito e tendenzialmente l'unico modo di fare questo è attraverso l'azienda, attraverso le aziende, attraverso l'attività imprenditoriale, attraverso il profitto. No, Lore? Ho già letto da qualche parte questo. Chi dice queste cose? Mi pare che l'abbia detto tu nel tuo libro. Il quarto comandamento investi nella tua azienda, quindi ti fa onore che rispetto a tanti altri formatori finanziari o soprattutto in America questo, in Italia magari un po' meno, ma moltissimi pensano che si diventi ricchi con gli investimenti e poi spingono persone che hanno effettivamente bisogno di portare a casa soldi in un tempo breve in investimenti che non sono andati per loro. Questo è un ottimo argomento. Questo è una cosa che ti seguo da tantissimo, una delle cose che mi era piaciuta di te all'inizio era proprio questo chiarire che gli investimenti sono molto importanti e possono aiutare a raggiungere un certo tipo di obiettivi finanziari e non molto più velocemente, ma il vero motore della ricchezza è dato dal proprio lavoro, il proprio capitale umano e dall'azienda che è un po' la manifestazione di lavoro e capitale umano per quanto riguarda gli imprenditori. Assolutamente. E guarda, questo è un concetto molto ampio che si presta a una marea di interpretazioni. sul fatto che io effettivamente l'abbia sempre messo a parte come un comandamento perché è la verità, perché è semplicemente la verità anche l'altro giorno parlavo di quanto secondo me sono stupide nonché dannose le gare sul trading anche a livello universitario che si fanno visto che qualcuno le fa ancora in giro dove a questi ragazzi qua che magari stanno studiando gli si fa partire a fare queste gare di investimento dove ognuno deve scegliere l'azione, il fondo, queste cose qua, si mettono in competizione così fanno un po' di pratica e lì si fa partire da un capitale finto ovviamente di 100.000 euro per esempio cioè senza nessun tipo di invenzione a come ci si arriva a questo capitale perché la gente ha paura di parlare di come si risparmia o prima ancora di come si guadagna perché effettivamente spesso è un come si può dire un insegnamento non replicabile perché io posso raccontare due cose su come ho creato la mia azienda che va bene facciamo le nostre cose eccetera però non mi sognerei mai di dare perché non sono un business coach non mi interessa però non mi sognerei mai di dare indicazioni da questo punto di vista o di dare consigli da questo punto di vista perché è molto più complesso vedo invece che comunque educatori formatori finanziari e cose così tendenzialmente confondono le due cose ovvero partono dal presupposto che partendo con 100 euro cioè si possa accumulare chissà quale ricchezza con gli investimenti per 100 anni investendoli al 7% per 100 anni tra 10.000 anni cazzo fra tantissime non funziona così e questo attenzione però non vuol dire che non dovete iniziare anche con 100 euro cerchiamo di capirci è una funzione psicologica diversa con 100 euro non ci diventerete ricchi ci diventerete ricchi lavorando molto bene e avendo ottimi stipendi risparmiando facendo la vostra azienda eccetera questo non vuol dire che se al momento non siete ancora pronti per questo tipo di discorso con un po' di capitale in più non dobbiate comunque tendenzialmente partire anche con 100-200 euro quello che avete perché come dicevo anche ieri nel post in un post che ho scritto è molto più è molto più educativo investire solamente 100 euro ma veri guadagnati che investire 100.000 finti nel giochino online clic 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 no azione che è questo devo proprio dire una cosa perché a NBA Jam state giocando lì a Street Fighter non siamo in sala giochi cazzo quando mi sono avvicinato per la prima volta nel mondo degli investimenti avevo fatto un po' una lettura e avevo visto che uno dei consigli più frequenti dell'epoca anche su vari siti inglesi e quant'altro era comincia a crearti un portafoglio finto con soldi finti quindi avevo fatto un po' quello che dicevi tu dall'educazione finanziaria e avevo preparato il mio portafoglio finto e poi dopo un po' mi ero detto ok adesso sono pronto a investire qualcosina ed ero partito con una somma ridicola era bassissima era tipo 3.000 euro una frazione di quello che era il capitale che avevo a disposizione all'epoca eppure quei 3.000 euro li investiti cominciavo ci guardavo tutti i giorni magari una volta in più al giorno ah ma oggi ho perso no non mi piace anche se ho perso solo 10 euro mi dà fastidio e questa sorta di allenamento psicologico è stato assolutamente impagabile perché poi dopo man mano ho cominciato a prendere responsabilità di investire sempre più soldi anche dare una mano ad investire il capitale nei miei eccetera non ho mai sentito lo stesso livello di preoccupazione di ansia come l'ho avuto con i miei primi 3.000 euro lo sapevo che anche se fossero spariti completamente la mia vita non sarebbe cambiata sarebbe tutto andato avanti normalmente ma è stata comunque un'ottima scuola per cominciare a diventare un po' familiare con le oscillazioni dei prodotti finanziari ed è questa la vera ragione per cui è importantissimo investire anche con un capitale molto basso questo tipo di esperienza un simulatore non te la può dare no ma quei soldi finti manca completamente l'aspetto emotivo e sono veramente due giochi completamente diversi come chi vorrebbe magari giocare in serie A ok tra qualche anno e pretende di fare pratica fare allenamento giocando con la playstation cioè sono proprio due cose il giorno e la notte non hanno niente 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 a che vedere ok assolutamente tanto più che ne parlavamo pure ieri sul gruppo oggi non è mai stato così facile da un punto di vista di costi cominciare ad investire cose che negli anni 60 o 70 erano praticamente impossibili o poteva farle solo il Gianni Agnelli di turno oggi chiunque abbia 100 euro può farle e questo permette di acquisire una consapevolezza molto più velocemente rispetto a quello che era magari anni fa in cui era no non conosco le azioni è tutta una bisca ma si può sia acquisire le conoscenze da un punto di vista teorico comunque di conoscenza come un po' facciamo noi sul gruppo facendo divulgazione che dal punto di vista pratico mettendo i propri soldi investendoli da qualche parte e vedere un po' come ci si sente magari qualcuno poi scoprirà proprio di non tollerare la minima oscillazione dei mercati e forse il mercato degli investimenti il mondo degli investimenti non fa per lui o per lei ma è comunque meglio saperlo prima come prima cosa o comunque cominciare ad abituarsi perché poi dopo un po' è un po' come le turbolenze in aereo magari la prima volta può fare un po' paura poi la decima volta dici vabbè è sempre la stessa cosa certo il concetto fondamentale è poi che oggi giorno non ci si può permettere di non mettere attenzione che è una risorsa importante anche l'attenzione come il tempo come il danno non ci si può permettere di nascondere la testa sotto la sabbia quando si pensa ai soldi che vi piaccia parlarne esplicitamente o che siate un po' più come si può dire moderati sia nelle manifestazioni di ricchezza che qualunque altra cosa i soldi servono grazie a cazzo ho capito però diciamolo in modo esatto assolutamente esplicito in questo modo qua perché ci sarebbe tutto guarda l'altro argomento sui soldi fanno la felicità o meno e felicità fa i soldi meglio avere un piangere meglio piangere su una bentrica e ridere su un motorino scassato queste cose qua però esatto ne parliamo la prossima volta io allora per concludere un po' allora secondo me il punto fondamentale è questo ci sentiamo un po' a disagio ci si sente in generale un po' a disagio a parlare di denaro perché culturalmente lo si considera spesso e volentieri una cosa sporca per quanto tutti siano da concordi che sia una cosa assolutamente necessaria però questo deriva dal fatto che i soldi vengono ancora considerati come un fine un punto di arrivo un obiettivo a sé e non invece c'è un mezzo ok ovvero come qualcosa che ci permette di fare qualcosa vivere esperienze comprare qualcosa che ci permette chiaramente di migliorare la nostra vita ci permette comunque di liberare anche il nostro potenziale perché senza soldi sinceramente non ci possono nessuna grande azienda è stata magari all'inizio però poi dopo un po' i soldi servono parliamoci molto chiaramente non mi ricordo più chi l'ha detto ma a livello di business i soldi sono l'ossigeno dalle aziende se non li hai non puoi assumere dipendenti non puoi fare investimenti non scherziare un conto se uno deve fare parte con un blog parte con queste cose ma per fare cose un po' più importanti servono i soldi ma per fare qualunque cosa i soldi serviranno ad un certo punto ma per fare qualunque cosa ma anche semplice per mandare il tuo figlio a scuola per permetterti anche di tirare un po' il remi in barca quando sei ormai già hai una certa età ti sei rotto anche le balle di lavorare tutto il giorno dieci ore al giorno cioè i soldi servono assolutamente ma per fare della beneficenza ancora diamo un'immagine anche più i soldi sono un mezzo però per fare qualcos'altro di molto più importante che conta molto di più diventano una cosa effettivamente tra virgolette un po' come si può dire becera un po' sconveniente quando vengono considerati un mezzo e si pensa a quello che vuole fare i soldi come quello che vuole accumulare ricchezze lì avido sempre vestito uguale cazzo che non compra niente non fa niente non va a cena conta ogni ogni euro eccetera cioè non è questo il concetto quando i soldi diventano fini se stessi è un problema e non va bene esatto in quel caso è veramente brutto perché è anche vero che poi qual è il modo un po' cioè il modo migliore per considerare i soldi a livello generale insomma ma questo che secondo me è anche un ottimo consiglio pratico con cui diciamo possiamo un po' chiudere il podcast di oggi è gestirli come una risorsa ci sono tantissime risorse che abbiamo a disposizione noi tempo attenzione energia però non ho mai sentito nessuno incazzarsi con il tempo perché è cattivo perché è sporco perché un'altra persona ne ha di più con il tempo c'è un rapporto molto più neutro si cerca sì di ottimizzarlo di fare il possibile per averne di più ma si è anche molto più rilassati nel gestirlo il tempo non intendi il tempo il meteo no? intendi il tempo il tempo inteso minuti ore non il tempo atmosferico per i livelli può essere una risorsa però gente bestemmiare che fino a me l'ho sentita ah beh in effetti quello sì il tempo il tempo che abbiamo a disposizione il tempo con la T maiuscola diremo da un certo punto esatto e quindi il modo migliore per gestire i soldi è proprio considerarli come il tempo come l'attenzione un qualcosa da gestire in modo neutro senza emozionarsi troppo e senza farsi prendere da paura avarizia piuttosto che altre emozioni negative o uforia positive che comunque ci impediscono di vedere chiaramente qual è il modo migliore per utilizzare i soldi e poi gestirli così ovviamente non sarà facilissimo perché no non siamo macchine non siamo robottini avremo sempre una certa componente emozionale tutte le volte che parliamo di soldi ma già l'esserne consapevoli e cominciare ad usare a gestire i soldi in un modo un po' più tranquillo dal punto di vista emozionale vi porterà sicuramente a prendere decisioni migliori per voi e migliorerà la vostra vita semplicemente gestirete i soldi molto meglio con questo piccolo switch mentale certo quindi concludiamo così se avete una corretta mentalità che riguarda il denaro da un certo punto di vista non sarete più a disagio a parlarne perché una volta che viene considerato come un mezzo che vi permette di ottenere qualcosa e non un fine che è una cosa un po' così vi sentirete anche a più agio ma avrete un rapporto migliore che dovete parlarne per favore avrete un rapporto migliore col denaro un rapporto migliore col denaro che aiuterà in tutta una serie di aspetti della vita quotidiana insomma ok quindi andiamo contro la cultura italiana storica e ognuno si faccia la propria cultura ognuno ragioni con la propria testa ok ognuno si liberi anche da questi retaggi culturali veramente anticapitalisti e si fassa la propria vita finanziaria comprendendo che se non ci pensa lui al suo denaro ci penseranno gli altri ma gli altri faranno i loro interessi e non i suoi esatto esatto ok Lore io direi che ci sentiamo allora nel prossimo appuntamento del podcast abbiamo un sacco di altre cose da dire però come sempre stiamo già a una quarantina di minuti buoni e ce le teniamo buone per la prossima volta allora ok preparatevi perché abbiamo tantissimi nuovi contenuti tantissime nuove idee anche con aziende di società quindi preparatevi c'era tantissimo ormai la strumentazione audio funziona è testata quindi ormai io non toccherò niente io non toccherò niente è tutto attaccato adesso lascia lì non togliere nulla dal tavolo sì sì la polvere sopra esatto però ciao a tutti alla prossima puntata ciao a tutti alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti